... Mattarella, la Croce Rossa, Italia responsabile durante la prova del virus. La coesione ci consente di progettare la ripartenza. Milano aperitivo shock sui navigli, decine di giovani senza mascherine, alla rabbia di sala, o si cambia o chiudo tutto. Alto Adige, da domani negozi aperti, il governo impugna la parte sulla sicurezza sul lavoro, boccia, autonomia garantita ma rispettata è la Costituzione. La Corte di Giustizia europea, la consulta tedesca su BC e la competenza è solo nostra, oggi Eurogruppo per il via alle misure anticrisi. Maturità e prove di terza media, pubblicate le ordinanze del Ministero dell'Istruzione con le nuove regole per quest'anno. 75 anni fa la fine della seconda guerra mondiale, ricordo in silenzio per la pandemia, Francia, Regno Unito e Germania, niente parate manifestazioni. Riappare la superluna nei cieli del mondo, l'orbita più vicina alla Terra per il satellite, da Hong Kong a Caracas... Riappare la superluna nei cieli del mondo, l'orbita più vicina, la superluna nella Terra per il mondo, l'orbita più vicina, Grazie a tutti.